Eccoci qui di qui ragazzi, allora, benvenuti in questo nuovo video di speciale Calcio Mercato. Vi dico la verità, oggi non avevo previsto di caricare video, perché sostanzialmente non era uscita nessuna notizia veramente importante. Si erano lette le solite notizie del si prova a convincere Iguain, Icardi potrebbe entrare nella trattativa per Geco, eccetera, eccetera. Le solite cose trite e ritrite al quale io non do ormai più peso, visto che ormai si dicono da settimane ancora non è successa una sega. Ho fatto un post su Instagram scherzoso riguardo il commento che One Jesus ha scritto sulla foto di Icardi, con scritto ti aspetto con i colori giallorossi, come se potesse significare qualcosa. Io ci credo poco, vi dico la verità, però intanto apprezzo il tentativo di One Jesus di convincere Icardi a vestire la maia giallorossa. Comunque ho visto che in privato mi avete scritto in diversi per chiedermi un video riguardo una nuova voce per quanto riguarda l'esterno offensivo giallorosso. E si sta parlando di Alexis Sanchez. Se il mercato inglese è chiuso già in questo momento in entrata, non è chiuso attualmente in uscita. E Sanchez in questo momento è a tutti gli effetti un esubero dello United. Preso qualche anno fa dall'Arsenal in uno scambio con Mkhitaryan, l'attaccante cileno non ha per nulla fatto bene con la maia dei Red Devils, riuscendo a fare praticamente pochissime presenze e segnando qualcosa come 3-4 gol in una stagione, che è qualcosa di imbarazzante se pensiamo comunque alle qualità tecniche che il giocatore ha mostrato fino a praticamente qualche anno fa. Perché il giocatore potrebbe venire alla Roma, considerando lo stipendio che prende in questo momento a dir poco probitivo, potrebbe venire per un semplice motivo. Lo United sta cercando di sbolognarlo, quindi in ogni caso Sanchez è sul mercato, quindi che possa andare alla Roma, possa andare in un'altra squadra e lo United se ne vuole liberare. E perché se ne vuole liberare? Proprio perché prende uno stipendio troppo elevato per quello che in realtà vale e che ha fatto valere con la maglia appunto dei Red Devils. Per questo motivo addirittura lo United sarebbe disposto a cederlo in prestito con diritto barra obbligo di riscatto pagando parte dello stipendio, che gli permetterebbe comunque di abbassare il monte in gaggi perché non pagherebbe parte appunto dello stipendio di Sanchez. E si toglierebbe un giocatore che in questo momento non fa per nulla parte dei progetti della squadra. Il classico esubero che devi sbolognare il prima possibile perché anche se dovesse migliorare non ci fa praticamente nulla. E si sta parlando appunto di un interessamento da parte della Roma, che tu come tutti ben sapete è alla ricerca di tantissimi giocatori sul mercato, partendo dai difensori centrali per poi andare dai terzini destri agli esterni offensivi e infine al centravanti. Si sono fatti tantissimi nomi ma per il momento dall'acquisto di Veretù in poi il mercato si è temporaneamente bloccato, sperando che si sblocchi ovviamente prima dell'inizio di questo campionato. Sanchez sarebbe una operazione fattibile? È difficile. Ve lo dico prima di tutto, è difficile. Non è impossibile perché appunto il giocatore viene da Annate Deludenti e potresti comunque approfittare del fatto che lo United in questo momento sta mandando via un po' di esuberi come ha fatto appunto con Lukaku. Facendo un po' una cosa del genere come successe qualche anno fa quando il City vendette in pochi giorni sia Jovetic all'Inter che Geco alla Roma, mandando via in poco tempo due giocatori che non facevano appunto più parte del progetto tecnico della squadra. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista ci sarebbe la volontà del club inglese di liberarsi del giocatore. Poi bisognerà vedere la volontà dell'attaccante cileno, se vorrà tornare in Italia in una squadra che però in questo momento non fa la Champions League. Qua dipende soprattutto dalle altre offerte che sono state fatte per questo giocatore, perché se per lui, la vedo difficile, si è informata solo la Roma, allora sicuramente potremmo avere delle possibilità in più. A livello puramente di cartellino non è valutato tantissimo, credo che sui 40 milioni comunque sia la cifra più adatta, ma comunque se lo United è disposto a darla anche in prestito sarebbe comunque un discorso che sposteresti alla prossima stagione. Più che altro il discorso è legato allo stipendio del giocatore, perché è vero che parte lo pagherebbe lo United, ma è comunque tantissimo, cioè parliamo di cifre astronomiche. Anche dividendo la metà per la Roma sarebbe veramente tanto, quindi credo che lo United dovrebbe fare ancora uno sforzo e pagarne non dico due terzi, ma poco lì, cioè ci siamo lì, siamo ecco, perché la Roma comunque deve affrontare il discorso del centravanti, perché fino a poco tempo fa sperava di tenere Dzeko e di spendere gli altri soldi restanti per la difesa. Visto che Dzeko partirà sicuramente, si prevede una spesa importante per quanto riguarda l'attacco, magari risparmiando un pochino in più per quanto riguarda gli altri reparti. E sotto questo punto di vista appunto penso che è difficile prevedere un attaccante di assoluto livello davanti con allo stesso tempo l'acquisto di Sanchez a fianco, quindi bisogna rivedere un pochino quali sono gli obiettivi della Roma. Se destinare la maggior parte del budget per il centravanti, per il difensore centrale o per l'esterno offensivo. Io personalmente, nonostante le ultime annate non siano state positive, a Sanchez non direi di no neanche sotto tortura, per quanto amo questo giocatore, e soprattutto lo prenderei anche perché ha fatto vedere il meglio di sé in Italia. È vero che parliamo di 8-9 anni fa, quindi comunque la carriera del giocatore si è evoluta decisamente, però anche evolvendosi il giocatore non è che è calato così tanto di prestazioni, comunque col Barcellona ha fatto molto bene, meno rispetto all'Udinese, ma comunque è stata un'ottima pedina per il reparto offensivo. Successivamente poi in Inghilterra è andato bene con l'Arsenal e decisamente male con l'United, quindi sicuramente si potrebbe trattare di un affare low cost, se consideriamo la situazione attuale del giocatore. Fatto sta però che, io ve lo ripeto, lo vorrei assolutamente, però bisogna capire su quali soldi appunto destinare, su quale reparto destinare la maggior parte dei soldi, perché se devo scegliere assolutamente, io li destinerrei sul centro avanti, perché è che comunque se tu spendi tanto sul reparto, poi sugli altri reparti non sei coperto e sicuramente ci sarebbero delle lacune, però un difensore centrale, anche esperto low cost, lo potresti prendere. Un esterno offensivo, ok, sicuramente sono rimasti gli stessi e non è un gran vantaggio, ma eventualmente sposti Florenzi davanti e ti prendi un terzino. Per me alla Roma serve un attaccante, perché l'ho visto anche con il Bilbao. Noi magari a livello di centrocampi difesa siamo anche discreti, con qualche errore è, però siamo anche discreti, ma davanti 0-0-0, ok? Che abbiamo giocato con Defrel e Schick era infortunato, però appunto se parti da Gecko rimani con Schick e Defrel e uno è un esubero, l'altro se ne vuole andare, quindi che cazzo ti segna in questa squadra? Quindi io dico la sincera verità, se devo proprio scegliere, prenderei un Icardi, ecco, per dire. Cioè se devo scegliere, vuoi prendere Icardi o Sanchez? Mi piacciono tutti e due, grazie al cazzo che direi magari tutti e due, però se devo proprio scegliere, preferirei di più il centravanti, perché purtroppo è un reparto sul quale non siamo per nulla coperti. Mentre invece per quanto riguarda gli esterni, è vero, non sarebbe questo grande acquistone, tra virgolette, ma spostando Florenzi davanti comunque a livello numerico saresti a posto, mentre invece in questo momento per quanto riguarda il centravanti non sei a posto neanche sotto questo punto di vista, perché Gecko si può considerare ormai dell'Inter, Schick sappiamo molto bene che giocatore è, e Defrel è partente, quindi chi ti segna? Per me quindi a scelta preferirei spendere questi soldi sull'attaccante centrale. Poi se si potesse anche provare a intavolare una trattativa con Sanchez, ma magari, però in questo momento la vedo, veramente, veramente difficile. Detto questo, ragazzi, allora, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'interessamento della Roma, del possibile interessamento della Roma per Alexis Sanchez. Un saluto e ci vediamo presto per un altro video. Sempre e comunque, forza Roma! Ciao ragazzi!